Patrick Swayze è uno di quegli attori che tutti ricordano con affetto, interprete di memorabili film entrati a far parte dell'immaginario comune. Considerato uno degli uomini più affascinanti di Hollywood, Swayze era riuscito a dar prova anche del suo valore come interprete distinguendosi attraverso generi e ruoli sempre diversi. Ancora oggi è ricordato come un'icona degli anni 80 e 90. Patrick Swayze è nato a Houston in Texas, Stati Uniti, il 18 agosto del 1952 ed è deceduto il 14 settembre del 2009 a caso di un tumore al pancreas. L'attore debutta al cinema con un ruolo nel film I ragazzi della 56esima strada, per poi ottenere estrema popularità grazie al ruolo dal protagonista in Dirty Dancing, Balli Proibiti nel 1987. A seguire recita in celebri film come Il Duro del Roadhouse, Ghost, Point Break e Donnie Darko. Negli ultimi anni della sua carriera ha poi recitato in One Last Dance, Dirty Dancing 2 e La Famiglia Omicidi. Swayze ha recitato per il piccolo schermo prevalentemente all'inizio della sua carriera recitando in serie come Mesh, La Banda dei Sette, Nord e Sud, Nord e Sud 2, storie incredibili. Torna poi a recitare in televisione nel 2009 in The Beast, serie poliziesca dove è protagonista accanto all'attore Travis Fimmel. Qui Swayze ricopre il personaggio dell'agente dell'FBI Charles Baker, l'ultimo ruolo della sua carriera. Nel corso della sua carriera, l'attore ha avuto modo di ricevere alcuni prestigiosi riconoscimenti, tra cui la cerebrastella nella Hollywood World of Fame, consigliata negli anni nel 1997. Swayze fu inoltre nominato per tre volte come miglior attore in un film commedia o musicale, per i titoli Dirty Dancing, Ghost e Wung Fo. Quando aveva vent'anni, Swayze conobbe Lisa Niemi, di cinque anni più giovane, ad una scuola di danza frequentata da entrambi. La loro solida relazione li portò a sposarsi nel giugno del 1975 e da quel momento rimasero insieme fino alla morte di lui, giunta nel 2009. In seguito alla scomparsa di Swayze, la Niemi pubblicò un libro intitolato World Fighting Four, dedicato alla vita del marito e alle battaglie da lui sostenute in nome della vita. I due realizzeranno insieme anche il film One Last Dance, ispirato ai loro anni di gavetta come aspiranti ballerini. Swayze e la Niemi non hanno mai avuto figli nel corso del loro matrimonio. Nel 1990 si diffuse però la notizia che i due erano in attesa di un figlio, ma sfortunatamente, durante un'icografia, scoprirono che il bambino era morto. Dopo aver cercato di concepire un figlio in modo naturale, i due rivelarono a un'importante rivista che stavano prendendo in considerazione l'idea dell'adozione, ma questa non si realizzò mai. Nel film Point Break, punto di rottura, l'attore interpreta Bodhi, criminale appassionato di surf. Per una scena era previsto che il personaggio si paracadutasse da un aereo in volo e per realizzare ciò Swayze si rifiutò di farsi sostituire da una controfigura. L'attore era infatti anche un esperto paracadutista ed eseguì personalmente l'acrobazia, dovendo poi replicarla altre 50 volte fino al ciak decisivo. E lo sapevate che per lo sceneggiatore del film Ghost, Swayze fu da sempre la prima ozione per il protagonista, ma il regista non la pensava nello stesso modo. Si decise perciò di proporre la parte ad altri noti attori come Johnny Depp e Bruce Willis, ma tutti si dichiarano poco convinti del progetto e del dover interpretare un fantasma. Fu solo a quel punto che Swayze potè sostenere il provino, risultato perfetto per il ruolo. Ricordando l'esperienza vissuta sul set del film, Swayze ha in seguito dichiarato di aver trovato il ruolo di Sam Wyatt il più difficile della sua carriera. Il motivo principale era che, essendo il personaggio un fantasma, l'attore doveva trovare il modo più convincente di essere soltanto un osservatore delle azioni che accadono nel film e non un partecipante attivo. Per il film Dirty Dancing, balli proibiti, Swayze si esibì nell'esecuzione della canzone She's Like the Wind, facente parte della corona sonora del film e diventata con il tempo un grande classico. L'attore aveva scritto il brano anni prima del film e quando lo propose ai produttori questi ne rimasero incantati a tal punto da inserirlo nella pellicola. Ancora oggi la canzone viene utilizzata per molti film d'amore. E con questo concludiamo. Queste piccole curiosità sulla vita di Patrick Swayze ci sono servite per ricordare un grande attore che rimarrà nei cuori di molte persone. Ormai scomparso da 14 anni, Swayze rimane tuttora un'icona. Non ci resta che ricordarlo e salutarlo tributandogli un grande abbraccio. E con questo non mi resta che salutarvi. Ringraziarvi per averci seguito fino a qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, mettere like e condividere questo video con le persone che amano questo grande attore. Vi saluto e ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Un saluto da YouTube Top Chart.